Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 12 novembre 2021 e la frase del giorno è questa. Lasciate che ve la legga. Fidati di te stesso, ne sai più di quanto credi. Di Benjamin, di Benjamin Spock. No, non quello Spock, è un Benjamin Spock il pediatra e canottiere statunitense. A quanto pare vestiva le canotte, le canottiere in modo professionale. Fidati di te stesso, ne sai più di quanto credi. Ora, mi piace sempre... mi è arrivata immediatamente un'immagine che, diciamo, è abbastanza neuronale, sinaptica. Ecco, l'immagine che mi è arrivata è che fondamentalmente se conosciamo qualcosa, se sappiamo qualcosa, se facciamo esperienza di qualcosa, il nostro cervello crea una connessione sinaptica, per creare... per formulare una memoria di quella cosa. Insomma, una qualunque nozione, così come una qualunque capacità, ha una sua controparte fisica che fondamentalmente è una connessione sinaptica. I dendriti di un neurone si legano all'assone o ai dendriti di un altro neurone. Ora, fondamentalmente questo per dire che ogni cosa che sto dicendo diventa... diventa... ha un equivalente fisico nella... 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 nella forma delle cellule del mio cervello. Quindi, per ogni conoscenza che possiedo, per ogni cosa che so, vi è una determinata connessione sinaptica, una determinata forma del cervello, piuttosto che un'altra. Fidati te stesso, ne sai più di quanto credi, mi fa pensare che fondamentalmente, quando impariamo dai libri o da qualunque altra fonte di informazione, noi non assorbiamo l'informazione come se l'informazione fosse veramente dentro l'inchiostro, dentro il video, dentro le parole di qualcun altro, no? La vera informazione consiste in qualunque cosa possa essere poi, qualunque cosa più o meno metafisica, ma che comunque esiste ed è correlata a questa forma sinaptica. Ora, fondamentalmente, quando ci si siede, si chiudono gli occhi e si fa meditazione, il cervello non è che si spegne... magari sì, cioè dipende dal tipo di meditazione. Sadguru è diventato... già viva su Deva Sadguru, è diventato famoso anche fra le tante cose, perché facendosi fare un esame all'elettroencefalogramma, insomma, è riuscito a farlo apparire piatto, come se fosse morto. Quindi sì, alle volte, durante certe meditazioni, si spegne il cervello. In altre meditazioni lo si infiamma, lo si accende in modo molto particolare, in modo molto accentuato. Ed ecco quello che sto cercando di trasmettere è che fondamentalmente la conoscenza è già dentro di noi, la conoscenza è nella potenziale connessione sinaptica che ancora non abbiamo formato. Il bello della meditazione è che ci dimostra che le connessioni sinaptiche si formano anche quando non riceviamo informazioni dall'esterno. Insomma, la meditazione ci permette di ottenere informazioni semplicemente stando seduti, esistendo. E quindi ci fermiamo e creiamo connessioni sinaptiche. Di conseguenza poi, in conseguenza di queste sinapsi, oppure sono le sinapsi una conseguenza di quello che iniziamo a conoscere? Cioè, insomma, la conoscenza è una conseguenza o è la causa di queste sinapsi? Questo lo lascio decidere a voi. Di fatto c'è una correlazione. E quello che mi premeva dire oggi era appunto sottolineare oggi era l'idea di questa correlazione. Fidati di te stesso, fidati delle esperienze dirette che fai. Ne sai più di quanto credi. Perché appunto la conoscenza, ciò che sappiamo, alle volte sorge semplicemente prendendosi il tempo di stare da soli. miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Per il resto, io come sempre, vi auguro il meglio, e solo il meglio, e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!